A presto! A presto! A presto! Vai, Lione! Vai, Filippo! Ho moltato perché la vata, dai! Anche Maltese non c'è. Ma non c'è, però. No, non c'è, non c'è, non c'è via. Ma lui lo sapeva, ma il Maltese non lo sapeva. Mi fa tentare il giovane, non so più. Dai, dai ragazzi. Sto soffrendo. Sono titolare. Comunque, il sole di primavera non dà fastidio. Se hai più tranquilla, sono stessa. Ma adesso non suoni, però fa un po' deve mettere qualcuno. Bello, eh, caro. Dai, Ramella, però tu devi fargli questo tiro. Se ti provi il tiro. No, lui è bravo, dai. Ah, vabbè. Tocchiamo a seguire lui. Non ci credono abbastanza. Vediamo che non ci credo più. Eh, sono un po' magari... Se lo muovo è il portiere, fortissimo. La distanza al metro. Qua. Infatti, cosa ti dico? Eh... Se li ha trovato meglio. Eh, sì, no, no. Lavoro! Allora, davvero? Dai, ascoltiamo meglio la parola, bravo. No, pesca, vai, bravo. Bravo! enhance, bravo! Bravo, va bene! C'era solo lui! C'era solo lui! Siccome bene, certo! Oh no! Ah, che cazzo! Si tratta di frattore. Mi vado. Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.